Video, video wow, bellissima giornata di sole, la luce riflessa dalla finestra, schizza sul marmo e il marmo fa schizzare la luce in tutta la stanza, questo si deduce del tempo tutto il tempo, ovvero 8 ore di seguito, caldissimo, bellissimo, e in più pizza, che stavo facendo, wow, mi sorprendo di me stesso, che buona! Ho messo lo sparmigiano reggiano, questo si è una giornata di sole, il sole colpisce, il sole colpisce, abbiamo detto il marmo, il marmo fa schizzare la luce nella stanza, poi domani sono mille per il minibar, ho bisogno andare in montagna, e adesso io mangio la pizza e devo il caffè, il sole dentro della finestra colpisce il marmo, il marmo fa schizzi che la luce schizzi in tutta la stanza e si fa schizzi a bel tempo. Grazie. 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 Grazie.